Salve a tutti e benvenuti in questo quarantesimo episodio di FIFA Carriera Allenatore Molto energico e quindi vuol dire che perderò sicuro Abbiamo dovuto sostituire Sandro con Anderson ma è abbastanza baggato anche lui Ma Yuka è salito a 74 Non mi va di rimanere cuglio a guardare gli altri che giocano Voglio esser ceduto durante la prossima sessione del mercato Siamo secondi a pari merito ed è una cosa incredibile Ha ha, peccato che siamo contro l'Atletico Madrid Che ha preso Cavani del Chelsea, è giusto, è giusto Stavo pensando se giocare in modalità leggenda ma mi sa che è meglio di no Se vinciano tutte e quattro oggi una partita la faccio in modalità leggenda E riparte! Ma Yuka, Ma Yuka, Ma Yuka, prende il pallone, Ma Yuka, Ma Yuka, riuscite a passare o ci arriva? Comunque ho letto i commenti del 38 e vi ringrazio davvero perché ci sono stati commenti davvero emozionanti Ad esempio mi era allegrato la giornata, la tua voce mi fa, mi rende felice E' una cosa bellissima sentire da cose del genere Però l'importante è avere i soldi No sto scherzando Kankunga ci ha provato Ma Yuka, e cosa fa? Attenzione Ma Yuka, il quadro piede di Ma Yuka riesce a passare e boom! 1 a 0 Ma Yuka, quando comprerò la PS4 probabilmente rincomincerò la carriera allenatore Anche se sarà ad agosto perché così prenderò tutti i giocatori che sono sbocciati poi No, 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 oh, 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 ma hanno pareggiato Ma sempre mi devono segnare Anderson ha un futuro Ci va di testa Di aura! Papà Babacar! Colpisce ancora! 2 a 1 E finisce il primo tempo sul punteggio di 2 a 1 Oh, oh, che bello Non ho più problemi a vincere Dovrei aumentare la difficoltà leggenda Ma... Immaginatevi in modalità leggenda, ecco Papà Babacar Papà Babacar Passa Papà Babacar Papà Babacar! Si è scartato tutti Anche il portiere 3 a 2 Compratevi i neri in attacco Vedrete che vincerete No, 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 no 3 a 3 Non ci credo Fuori 1 Fuori 2 Passa Mayuca Mayuca no! Cerca il contropiede Ce l'ha Mettila No, no, perché? Ochoa Ochoa Non fare che cavolata E finisce la partita 3 a 3 Ma va bene Contro l'Atletico Madrid Me l'aspettavo Ha perso il Barcellona Buono Malaga contro Gheddafi Gheddafe Papà Babacar Antus batte il calcio d'angolo Ci va di testa Palo No! Di testa Stris Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Stanno tirando più loro che noi Non è una bella cosa Ma cosa faccio? Ma cosa faccio? C'è una faffalla sulla tv Che cosa bella Arto Detto! Ed è gol! Non me l'aspettavo Mayuka E finisce a primo tempo 1 a 0 Ma dai! Ochoa E vabbè E vabbè Non è nemmeno preso per Mayuka Mayuka in contropiede Mayuka Mayuka stacca tutti Ed è rigore Ed è calcio di rigore Babababacar Il partiere è fermo 2 a 1 Bababacar Con questo pallone è benissimo Babababacar Si scarta Babababacar La mette E non si sono capiti No Ochoa No Babababacar La cross al centro Per Mayuka Che vola E finisce la partita 2 a 1 E vinciamo ancora Amichevole internazionale L'assalto E abbiamo vinto 3 a 2 Ebbene Oh Quello della primavera Oh mamma Oh Rubi Ebbè Qua ci sono dell'intese Altra amichevole Contro il Camerun Vinta 4 a 0 Sandro sei ripreso Siamo secondi A 4 punti Cioè vi ha scalato Tutte le posizioni Malaga contro Sevilla E si parte Kakunga Che bel campo Però piove Mayuka 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 Gioca Mayuka Mayuka Gioca 1 a 0 Mayuka Senza neanche Un piccolo problema Fine primo tempo Così subito Immediatamente Partita Durata 2 secondi Gol Basta Tanto io so già Come andrà a finire Exit Stai andando troppo bene Non va bene Adesso Aumenti la difficoltà In modalità Leggenda E poi non puoi più Quindi Attenzione però Oh mamma Oh mamma Cosa ho fatto Copro tutto Copro tutto Copro tutto Dovrei segnare il secondo gol Il più veloce Posso Cos'è questo Ma che cavolo No il portiere E il portiere Dov'era Era così tranquillo Dai No 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 Uuuuh Di testa Ochoa È finita 1 a 1 Inaspettato Mi stavo così tanto Rilassando Che me la sono presa In quel posto Come sono quinto Con che Ah una partita in meno Mi stavo leggermente Preoccupando L'ho preso L'ho preso Ma non me l'ho No vaffan... Devo vincere per forza No Perché mi dico Non devo dirlo Non devo dirlo Hanno un difensore Che si chiama Deamo Era raffreddato Il giorno che si è dichiarato Cacunga 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 La mette in mezzo E fa la... No Vaccade Fanno dei... Fa la breakdance Non si riesce a giocare Oh Oh Perez Non ci credo E vacci E non ci credo E finisce il primo tempo 0 a 0 Come lo scorso episodio E il Barcellona Sta già vincendo 3 a 0 Oh Abbassa la cresta No 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 Ma da dove è spuntato Quel nano orellana Maiuca la crossa in mezzo E neanche Cacca d'angolo Pallone viene preso per Maiuca In contropiede Stavolta ve la piazza Addio 1 a 1 Pallone viene messo Tira Ed è 2 a 1 Così Maiuca colpisce ancora Sette minuti dopo Sette minuti dopo Pallone viene preso Per Maiuca 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 se la porta indietro E ciao No Ho sbagliato No 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 Alla fine no Uh Maiuca 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 Porti in contropiede Ciao al pallone E arrivederci E grazie 3 a 1 Maiuca Colpisce Colpisce Per la terza volta E finisce la partita 3 a 1 Due vittorie Due pareggi Direi che può bastare Nel prossimo episodio abbiamo Real Madrid Real Madrid Una squadra che non conosco E Real Madrid 3 Real Madrid In una giornata Va bene Grazie Arrivederci Ciao Ciao